Domenica 19 dicembre i sindaci e i consiglieri dei 312 comuni del territorio torinese eleggono il nuovo consiglio metropolitano. Il peso del voto di ciascun amministratore locale è proporzionato al numero di abitanti del comune di appartenenza. Le liste in campo sono tre. Si vota in 11 seggi sul territorio. Il nuovo consiglio sarà composto dal sindaco metropolitano che per legge è anche il sindaco del capoluogo Torino e da 18 consiglieri tutti amministratori locali.